Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video questo sarà un video tag che ha ideato una ragazza giorni fa mi ha scritto in posta su youtube una ragazza che qui su youtube si chiama elenac9696 e mi ha proposto un tag che ha ideato lei devo dire che ha davvero avuto un'idea molto molto carina perchè il tag è davvero simpatico e si chiama il natale secondo me io vi lascio giù nell'info box il link al canale di questa ragazza è davvero molto carina e molto dolce ho visto alcuni suoi video ed merita davvero andateci a dare un'occhiata allora inizio con le varie domande gli ombretti natalizi vi faccio vedere subito gli ombretti che io utilizzo per Natale e sono questo qui di Milani che ho utilizzato anche nel tutorial che come potete vedere è questo rosso metallizzato molto molto natalizio con riflessi fucsia, oro molto molto particolare come ombretto poi vi faccio vedere due ombretti in crema uno di Pupa che è il 101 che è questo oro molto molto bello lo adoro davvero e quest'altro qui di Astra che è un argento invece pieno zeppo di micro glitter multicolor che ho utilizzato per il tutorial ve lo lascio qui sotto vi lascio nell'info box sia il tutorial che ho utilizzato con l'ombretto di Milani e sia il tutorial che ho utilizzato questo qui con l'ombretto Astra inerenti insomma al Natale ovviamente e poi vi voglio mostrare due palette che comunque hanno all'interno secondo me degli ombretti molto natalizi mi pulisco un attimo e sono questa qui di Too Faced che all'interno porta questo blu molto natalizio e questo oro poi comunque ombre poi ho anche il nero che comunque porta tutti questi micro glitter è molto carino e natalizio secondo me e poi anche l'argento dimenticavo l'argento che ho utilizzato anche nel tutorial che vedete insomma di Natale e si chiama Jailboard come colore ed è bellissimo faccio vedere super super pigmentato mi pulisco perché sennò sporco tutta la palette e poi sto utilizzando molto anche questo qui gli ombretti della India Collection di Paola P perché insomma mi piacciono molto pure i colori che ci sono all'interno oro poi ci sta questo ramato rosa antico molto particolare questo pescato che utilizzo moltissimo come blush poi c'è questo bianco shimmer molto molto carino il marroncino questo è un marroncino medio con riflessi oro e questi due qui che sono matte sono fantastici e questo è un casal che io utilizzo anche come ombretto devo dire la verità comunque la sto utilizzando moltissimo in questo periodo prima insomma festivo il periodo natalizio lo specchio poi di questa palette è enorme come potete vedere poi continuiamo con il videotag come sempre eyeliner natalizi vi faccio vedere due eyeliner e sono questo qui di Debbie che è il Debbie eyeliner glitter ed è un eyeliner con tutti micro glitter multicolor questo qui e poi il classico di essence il glam liner liquid eyeliner che è un oro champagne e questo qui è il numero non vi so dire perché mi si è cancellato ma ce l'ho davvero da tanto l'ho utilizzato anche ultimamente nei miei trucchi festivi come potete vedere anche questo è molto luminoso molto glitteroso insomma natalizio poi profumo natalizio un profumo molto invernale che mi ricorda insomma l'aria natalizia è questo qui dell'erbolario ed è il profumo il papavero soave vi faccio vedere il il packaging fatto così è rosso in vetro questo qui è da 100 ml molto molto buono buonissimo ed è insomma un profumo molto invernale che mi ricorda insomma il natale poi accessorio natalizio è questo cappellino qui che è un pezzo storico perché non so da quanti anni ce l'ho ed è di lana e viene direttamente da Parigi perché mia zia me l'ha portato proprio da Parigi quando è stata a Parigi ed è molto molto carino è il classico cappello Pargino rosso che io poi utilizzo anche il rossetto rosso e mi piace un sacco l'effetto cappellino con rossetto rosso mi piace ed è il mio accessorio natalizio poi candele natalizia non ho candele natalizie non ne uso candele devo dire la verità poi capo d'abbigliamento natalizio questa è la maglia della vigilia di Natale che come potete vedere è tipo laminata rossa è semplicissima larga così ma è tutta sbrilluccicosa molto molto natalizia ed è la maglia che utilizzo per la vigilia di Natale perché più natalizia di così si muore poi cibo dolce e salato natalizio allora per quanto riguarda il cibo dolce adoro moltissimo i panettoni quelli lì artigianali non quelli lì comprati perché non mi piacciono mi sanno di plastica e il pandoro ovviamente il panettone senza canditi con l'uvetta se mi piace poi qualcosa di salato allora qui per esempio al sud da me per esempio la vigilia di Natale si utilizza cioè si fanno i cenoni con il pesce vedi scorrendo che a me non piace quindi salato magari il il casatiello come noi lo chiamiamo che praticamente c'è dentro salame formaggio che fa mia zia ed è buonissimo e anche per esempio una torta che fanno molto a Napoli quella lì fuori dolce e dentro salata non vi so dire comunque è una tipo una cosa rustica e mia zia insomma la fa buonissima è qualcosa di spettacolare quella torta infatti aspetto sempre tutti i Natali per mangiarmi quella torta che è buonissima poi il tuo albero di Natale ideale allora il mio albero di Natale deve essere tipo gigantesco pieno di decorazioni tutte sbrilluccicose ogni anno cambierei colore cambierei tema insomma natalizio mi piace molto devo dire che il mio albero è abbastanza grande quindi sono soddisfatta perché è davvero enorme cioè per montarlo ci vogliono un sacco un sacco di tempo però per esempio ogni anno farei cambierei insomma il mio albero un anno che ne so farei con l'oro un altro anno con l'argento un altro anno con gli addobbi di legno fatti tipo con i pupazzetti con il rosso insomma sono tipo tutti quegli alberi belli pacchianosi americani che io adoro poi decorazione preferita natalizia adoro moltissimo le palline tutte decorate o con i brillantini o con decorate a mano mi piacciono molto poi smalto natalizio ancora devo andarmi a fare le unghie però sicuramente farò il gel rosso glitteroso con qualche decoro poi ovviamente vi posterò la foto sia su facebook che su instagram delle mie unghie natalizie film natalizio allora mi piacciono moltissimo i cinepanettoni mi fanno ridere molto ma anche tutti i cartoni animati che fanno per i bambini o il giorno della vigilia di natale o proprio a natale me li vedo tutti sono molto nostalgica io quindi mi vedo tutti i cartoni che mi vedevo quando ero piccolina mi piacciono molto poi citazione sul natale a natale si è tutti più buoni poi make up natalizio adoro molto come vi ho detto il rossetto rosso per natale e ve ne faccio vedere tre allora questo qui è il 101 di anzi scusatemi il 111 di Kate Moss ed è il kiss of life ed è un rossetto rosso matt bellissimo e questo è il colore come potete vedere è super intenso bellissimo poi c'è il 68 di Debbie ed è un matte e praticamente questo è il duppo del Ruby Woody Mac io adoro questo rossetto non potete immaginare quanto cacchio dura è qualcosa davvero di fantastico e come potete vedere cambia molto molto poco rispetto a quello di Rimmel però questo qui ha un sottotono più freddo rispetto a questo qua di Rimmel che ha un sottotono più caldo ed è anche un rosso più scuro tipo un cilieggia bello intenso e poi c'ho il 602 della linea matto della Rouge Boiser che è anche un rossetto che dura tantissimo l'unica cosa scomoda ma altrettanto bella è il packaging perché come potete vedere ha questa forma allungata con questo tipo specchietto al di sopra però il problema è che dentro i cassettini non ci va quindi lo devo mettere di così è un po' scomodo ma per il resto il prodotto è fantastico e vi faccio vedere quest'altro rosso qui che è un rosso più aranzato come potete vedere super super resistente tutti e tre sono matt io adoro i rossetti matt forse non si è capito comunque veramente li adoro poi ho detto scelta natalizio non saprei mi piacciono molto quegli uomini che vendono nei negozi fatti tipo di di biscotto tutti decorati molto carini da regalare all'interno che ne so di qualche ciotolina con dei cioccolatini non lo so mi piacciono molto come 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 cosa come oggetto natalizio burro cacao per combattere il freddo in realtà ne sto utilizzando un altro che nella borsa e mi sono scordata di là però prima di truccarmi sulle labbra metto questo qui di garnier che è il garnier repair e semplicemente il garnier repair insomma ha un buonissimo odore e devo dire abbastanza idratante poi acconciatura del periodo natalizio dipende a seconda del tempo non ho avuto tempo quindi mi sono fatta la piastra se ho tempo mi faccio i boccoli queste sono le mie acconciature natalizie l'acconciatura mi estiva il cipollotto in inverno è rarissimo che me lo faccio perché praticamente mi crepo di freddo quindi è proprio rarissimo quella è l'acconciatura estiva per quanto riguarda l'inverno mi vedete con i capelli così o mossi queste sono le mie due alternative e niente ragazze il videotag di Elena insomma finisce qui io faccio i miei complimenti ad Elena perché è davvero molto molto carino ha avuto davvero un'idea molto originale ti mando un forte bacio Elena grazie di avermelo proposto mi raccomando ragazze andate a dare un'occhiata al suo canale io vi bacio tutte e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze ciao a tutti ciao a tutti